Cristo, Signore, per la passione e per la passione, abita nel Cielo e in procedere di noi come sono in eterno sacerdote. Con Lui diciamo, Padre, aiutaci a fare la Tua volontà. Padre, aiutaci a fare la Tua volontà. Le Chiese di missione, mediante l'opera di evangelizzazione, superano le divisioni tra i cristiani per rendere possibile l'unico annuncio del Signore Gesù preghiamo. Padre, aiutaci a fare la Tua volontà. I ministri della Chiesa siano solleciti nel Dio, per venturi dello spirito, operosi nella carità e generosi nel dono di sé preghiamo. Padre, aiutaci a fare la Tua volontà. Per coloro che il Signore ha scelto come i Suoi rappresentanti in termini di missioni, siano amati e ascoltati e sostenuti nella loro missioni e preghiamo. Padre, aiutaci a fare la Tua volontà. 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 Bene, aiutaci a fare la Tua volontà. Dobro sentiamo te per benedetto, per non escivo di riserva eterna. Benedetto di sé. Benedetto Gesù, Signore, Dio dell'Universo, da la sua parola di amici, un gioco sabino, che è la visione dell'amore del mondo. Lo presentiamo te per benedetto, per non escivo di riserva e di salvezza. Benedetto Gesù, Signore, Dio dell'Universo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Benedetto quello che viene nel nome del Signore. Osano nell'alto dei cieli. Grazie a tutti. 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 O Signore, io non sono degno di partecipare alla tua venenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Alla prossima. 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 Alla prossima.